La prostituzione certamente noi diciamo che è contraria, non può essere accettata, ma adesso c'è una prostituzione minorile, una prostituzione soprattutto dell'Est, quindi io sono per i quartieri a luci rosse e c'è la possibilità come nelle grandi città europee dove c'è il pagamento di tasse, controlli sanitari obbligatori, non la riapertura delle case in generale, perché questo significa una mancanza di controllo, così è assurdo. Così vuol dire non vedere il problema che c'è di sfruttamento, di prostituzione, ormai di ragazzine, ma è ovunque, né serve ed è servito perché è solo spendere i soldi, le telecamere o le multe ai clienti, non serve assolutamente a nulla.